signore e signori buonasera dal teatro abc di catania va in onda di nuovo insieme presenta salvo la rosa d'accordo d'accordo sì ci vediamo domani devo chiudere adesso perché sta cominciando la trasmissione ciao ci sentiamo domani grazie ciao eccomi buonasera ben trovati grazie per questo applauso grazie a tutti i cori come io amo dire scusate mi stavo parlando al telefono il fatto di lavorare a casa quindi dentro al salone di casa mia ovviamente mi permette anche di parlare con qualche amico di organizzare qualche cosa ma poi sono sempre pronto nel momento in cui si apre il sipario e comincia un'altra puntata stiamo arrivando ormai alla conclusione di questa seconda serie oggi è la puntata numero 15 quindi di strada insieme ne abbiamo fatta tanta del resto il programma si intitola di nuovo insieme perché ha sancito proprio il ritorno in televisione del signor la rosa che sono io e del signor litterio che tra qualche momento dovreste vedere qui sul palcoscenico intanto grazie seguiteci sempre su tgs e su rtp applauso al pubblico grazie eccolo qui arriva proprio sull'applauso buonasera signor la rosa buonasera signore signori senta buonasera ma come si è combinato cosa c'ha in testa c'ho la corona signor la rosa all'oro ah c'ho la corona no no dico all'oro io quando vuoti c'ho la corona ho capito quelle foglie sono foglie di alloro questa la corona glielo dico in siciliano foglie di adauro ah questo è adauro adauro sì adauro e questo è l'alloro sì l'alloro che è adauro adauro in siciliano alloro in italiano quello che si mette nell'acqua bollita esattamente quello che tu puoi te la prendere quando ti fa male la pancia esatto il canarino eh ma allora sta alloro musavo più all'ora che quando c'ho il dolore assolutamente perché in certi momenti l'alloro nel momento che è all'ora vale come l'oro quindi e allora musavo perfetto se lo ma lo conservo sì ma intanto voglio sapere una cosa come mai porta questa corona di alloro e non me l'ho messa io me l'hanno messa gli altri e chi gliel'ha messa questa corona di alloro sulla testa tutta l'umanità 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 all'unanimità tutta questa umanità all'unanimità dove si è riunita si è riunita al mio paese al suo paese sì perché noi quando dobbiamo prendere decisioni importanti noi non è che facevi cose noi ci romano noi quando dobbiamo prendere decisioni importanti noi ci romano noi ci romano noi ci romano noi ci romano noi ci oriniamo ah ve la fate addosso che ne so che fate noi quando dobbiamo prendere decisioni importanti ci rioriniamo e la fate un'altra volta la fate due volte ci mori ci mori ci mori non moriamo sì sì ho capito ne viremo tutti ho capito quindi vi riunite riunite si prendiamo le decisioni ho capito quindi decisioni importanti è importante signor la rosa cosa avete deciso questa volta scusi mi hanno mi hanno incaricato di salvare il mondo della cultura addirittura la cultura di tutto il mondo addirittura la cultura e ne ha fatto specifico di questa trasmissione di questa puntata che io lo vedo a lei il teatro di tutto il mondo che lo devo salvare io e quindi chi gliel'ha dato questo incarico chi si è riunito si sono riunite tutte le autorità si tutte le autorità morali immorali civile sociale i militari le forze ammate le forze disammate le forze senza forza le associazioni di notale di notabile di gente imbottante di gente di mezza mulatura di gente a mezza nasciata tutti si hanno riuniti per darmi questo incarico e che incarico le hanno dato direttore artistico del teatro instabile che ci abbiamo nel paese perché voi al vostro paese avete un teatro stabile che cosa ha detto dico al vostro paese avete un teatro stabile che mi ha sentito mi fa bene da ridere abbiamo un teatro instabile nella parrocchia famoso che ha dato la possibilità di fare recitare ai più grandi attori 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 di fame mondiale ho capito di fama mondiale aveva una fama da fame che avevo ho capito e la grande quello vuoi chiamare se ne chiamava uno da signor la rosa per esempio qualche attore bravi attori bravissimi antonello cotoletta antonello cotoletta bravo maria rosa abuzzucusa anche questa famosissima la rosa gente che quando rappiava la bucca sul pacco scenico tu in sala o resistevi oppure te ne dovevi andare per la bravura no per l'alato che aveva ho capito ho capito bastavano anche quattro metri comunque insomma lei quindi lei direttore artistico lei ma perché sta facendo questo lei direttore artistico ma se fanno a quelli direttore artistico fanno cani e porci direttore artistici mi perdoni non hanno fatto ora no perché non hanno fatto anche lei direttore artistico ma io sono direttore artistico di tgs e di rtp ma per meriti io ho i miei meriti grazie a dio con umiltà e mi hanno fatto direttore artistico lei che merita io c'ho i meriti io ce li ho pure va bene la rosa dopo un paio di giorni che mi hanno dato questa nomina piglia e mi chiamava usino ho capito perché quindi è stato lui che l'ha incaricata sì sì ci sono un ero tutti i due solo praticamente perché ho paese comanda lui mi ha chiamato e mi ha dato l'incarico che mi disse letterio sì io ti affido la salvezza del teatro europeo universale è importante questo incarico è tuo sì vai salva il teatro del mondo e vai vai basta che non vai ho capito quindi per levarsela davanti quindi incaricato sì tu hai il dovere di salvare latte latte no c'è sì io con il latte siamo così da quando ho scoperto e fatto amicizia tanti anni fa amicizia stretta covino che dico latte non andiamo a parlare ho capito no stessi mo due anni chiuso in domenica io non mi parlavo per due giorni dopo due anni non ho capito che parlava del latte del teatro ma certo non il latte quello che si beve l'arte del teatro e quindi lei io ci si ci si signor sindaco io accetto che per prima cosa ci dobbiamo cambiare il nome al teatro va bene io non posso fare direttore artistico di un teatro che si chiama incessio come si chiama incessio non puoi essere ex celsior sarai ex ma comunque semplicessio no eccelsior non ne dobbiamo parlare ma lei le cose le deve capire bene poi poi ci ho detto un'altra cosa che dobbiamo fare immediato dobbiamo cambiare tutto il refettorio tutto il menu vuole cambiare il menu vuole cambiare non c'è la locandiera c'è scritto la locandiera basta la locandina cioè lei vuole cambiare praticamente il primo il secondo tutti i cibi previsti quelli da mangiare no i commedie le opere allora non il refettorio il repertorio non voglio stupire giusto il repertorio il repertorio di chi così capisci mi fa girato no io le voglio capire bene questo refettorio che lo faceva la compagnia degli armatori che c'era prima la compagnia di quelli che possiedono le navi gli armatori la compagnia di amatori di quelli che lo fanno il teatro così più di letto il teatro degli amatori il teatro amatoriale il teatro amatoriale che poi praticamente che succedeva siccome lo sponsor della stagione che poi era un'agenzia che era femmina la sponza certo la sponza perché femmina se era maschio era lo sponsor la sponza della stagione era un'agenzia di pompe fune no non c'è di male niente non c'è di male niente facevano lavori tipo la iena nel cimitero titoli tetri la notte dei motte viventi oscuri e ti sposo t'ammazzo e ti urroco sì orribili ma che titoli sono ma qua dobbiamo fare cose allegre perché il teatro è la vita il teatro è l'allegria dobbiamo fare cose belle ma assolutamente si sono d'accordo dobbiamo fare cose comiche cose divertenti cose divertenti ma nello stesso tempo devono essere profondi e imbottabili assolutamente sì se qua dobbiamo fare cose del tipo a donna carmela ci ha pigliato un'acqua bello ma divertente poi cose comiche cose del tipo le tasse non si pagano più questa è divertentissima questa fa proprio ridere addirittura è piaciuto subito anche al pubblico la ripeto la ripeto che titolo era le tasse comico le tasse non si pagano più ma più divertente di questo devo dire ma bello divertente oppure 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 e poi addirittura comicisti un altro più comico di tipo gli assessori sono tutti gente questo fa ridere sì sì questo fa ridere questo fa ridere sì sì e poi c'è che volevo fare una compagnia volevo io affurnare una compagnia di attori professionisti ma perché quelli che c'erano prima non erano professionisti no che ti hanno quelli erano l'impiegato della stessa agenzia di pompe fune ho capito sì perciò lei si immagina come trasevano in scena sempre un rocamottiero è chiaro questo mestiere facevano nobilissimo però come trasevano in scena in tanti cristiani quasi tutti e perché dopo commozione perché perché appena venivano ricevano che non si portava a buon amma di mia patria è vero è vero il ricordo che non si portava a buon amma di mia madre e anche questo è un ricordo che non si portava a buon amma di mio zio e chianto e chiedono le iene nel cimitero poi finiva uno spettacolo ci facevano l'applauso e chiedono giustamente ci facevano ringraziamenti con l'inchiuso cosa ci arrestavano dalla testa quando poi erano al lavoro cote butto con morto sopra la spagna comunisciavano nella chiesa ci facevano l'applauso e chiedono estendamente picchia saccavano e tutto butto parteva 28 gradini picchiava la velocità l'ultima curva prima di arrivare quando cimitero da butto curva da butto se non è addirittura c'è non d'appavano palo da luce da staccia ma quando ne visto morta struppiata ma no ma se sono morti vedete dove cacurre ma se è morto già che si deve fare dobbiamo cambiare come abbiamo cambiato poi che avevano fatto tutti tutte le poltrone del teatro le avevano fatte tutti in vera imitazione finta plastica col disegno di marmo bianco con le venature nere sembravano fatte di marmo tutti sti poltrone che parevano da un mammolo dietro la spalliera c'è un ufficio una targhetta di ottone con scritto un nome dell'abbonato che cosa orribile e poi una cruce vicino perché come dalla parrocchia la parrocchia vuole cacciata erano cimitero ma sembravano lapidi per ogni per ogni abbonato ma ci sei signor sindaco come a cangiare ci dobbiamo mettere tutte le poltrone rosse le poltrone blu di gioia tutto in materiale mignifico tutto in materiale mignifico perché questo vuole la vecchia materiale ignifugo e che significa significa che resiste al fuoco questo dobbiamo fare questo basta ho preparato tutte queste cose e poi giustamente il sindaco però si è un po' opposto a che cosa a questa cosa mia perché mi disse no che sai io consiglio di lasciare come sponso l'agenzia ma perché il sindaco voleva lasciarla perché perché lui dice dice guarda noi possiamo fare un pacchetto unico dall'abbonamento ci possiamo dire che chi viene a teatro e lascia per esempio i vecchi genitori vecchia nonna a casa ma se vi chiede e la vissano a trovare morti basta che gli esibiscono l'abbonamento è tutto un pacchetto ma come tutto un pacchetto si portano la chiesa ci faranno i suportano e lo tumulano tranne ghirlande tutto pagato ho capito quindi può essere un incentivo per andare al teatro può essere che è un incentivo va bene va bene quindi lei vuole fare tutto diverso una compagnia di professionisti però io non ho accettato non accettato io non ho accettato ci sono no no per me la sponso si deve cambiare e allora mi ho messo a cercare un teatro per fare un teatro mio si voleva mettere in proprio prima non ne trovavo poi trovai ma c'era uno prezzo prezzi altissimi e allora mi venne una coppia di intelligenza si lo so lo so lei mi faccio paura io stesso mi dà lei un tuo specchio e faccio mostro ma poteste pensare lei stesso si meraviglia di quanto è bravo si spaventa io ho fatto un teatro tenda ah bello un teatro tenda è una bella idea cattai una tenda catanese no scusi 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 io sono catanese sono nato a catania orgoglioso di esserlo ma non esiste la tenda catanese ma cattai a catania dove è? la tenda è canadese la tenda è canadese no allora se la compri a catanissetta cos'è una tenda nissena se la compri a siracusa cos'è a retusea che cos'è? ma cattai una tenda catanese e mi ho fatto ci ho scrivito di super teatro tenda no la rosa ogni sera a tappo ogni sera soldi auto soldi auto ogni sera ho capito avete trovato un nuovo sponsor uno sponsor di automobili soldi auto lei che parla l'inglese quando il teatro è chino come si dice? sold out sold out sold out quindi subito grande successo subito grande successo il pubblico preferibilmente un pubblico femminile quindi lei prediligge le donne se si poteva scegliere donne schette ecco vedove o divorziate bravo ma senza chiacchiere no? la cattandema la tendenza del tribunale certo 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 io non voglio sottolineamola questa cosa il signor Litterio ha fatto un teatro solo per donne e non solo donne singole per forza schette io non voglio Orlando non voglio Hotello non voglio Compariafio ogni sera come la prima la prima che traseva era la prima e l'ultima perché non c'era spazio si 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 una commedia ma qual è? un atto unico in quattro scene un atto unico in quattro scene in quattro scene proprio dal titolo dice la mamma rocca si guarda ma non si tocca no no si guarda e poi si tocca no no non dice la mamma rocca così ce lo giuro ogni sera una fila di film si da un'ora di spettacolo ma di due cose spettacolari in quattro scene aprivo solo venerdì sabato e domenica perché poi mi dovevo riposare e c'era qualcuno che ho sprindolito che volevo obbisse che ci faceva negativa col prezzo di un biglietto obbisse ma di fronte a una richiesta del genere un uomo che può dire no dice sì sicuramente certo poi il nonno come fu e come non fu che poi si sape come fu e che viene uno da buon costume ringraziato ti presenti senza costume come faccio a canzone eh certo uno della buon costume deve arrivare quanto meno e mi hanno fatto sudere il teatro perché dice che facevo un teatro vietato dalla legge che non si poteva fare un po' è così ecco e quindi mi ritrovo sempre desoccupato e sperare che qua mi facete fare un provino e mi fate fare l'afficio che poi mi proietta come un missile Sputnik nel mondo delle stelle del teatro allora guardi aspetti ancora un poco presto farà il provino noi intanto ci fermiamo diamo la linea alla regia e ritorneremo ancora di nuovo insieme su TGS e su RTP regia e dopo la pubblicità ritorniamo di nuovo insieme abbiamo cominciato questa puntata con il signor Litterio Scalisi non abbiamo invece ancora visto la mia collaboratrice personale questa bravissima ragazza che lavora con me il mio braccio destro la chiamiamo insieme vediamo a che punto siamo arrivati con la stesura del copione signore e signori Nadia De Luca eccola qui buonasera buonasera signorina buonasera bella elegante grazie si sentiva la sua mancanza signorina grazie si sentiva appena ho entrato dissi c'è invece c'era il lusolo mi scurava la vita si deve accontentare ma poi arriva Nadia a che punto siamo Nadia che cosa porta questa sera ho preparato il pezzo sulla mia attrice preferita come lei mi aveva richiesto Marinella Bragaglia ricordo una grande artista una grande attrice ma soprattutto una grande donna nacque a Palma di Montechiaro nel 1882 e morì nel 1918 a 36 anni pensi iniziò a recitare con i genitori a soli 5 anni e poi ebbe grande successo nei primi del novecento con la compagnia del teatro Machiavelli di Giovanni Grasso in Italia e nel mondo era brava e modernissima ed ebbe sempre il coraggio delle sue scelte sia artistiche che umane nel 1903 al culmine della sua fama con Grasso lasciò la compagnia durante la replica di uno spettacolo e fuggì con l'attore Vittoria Marrazi di cui era innamorata e che i genitori non volevano farle sposare lei scappò e lo sposò dal loro amore nacquero due figlie trionfò a Parigi New York Londra Berlino Mosca San Pietroburgo Buenos Aires Rio de Janeiro tra i suoi ammiratori c'era anche Gabriele D'Annunzio che la chiamava la piccola dose ma per lei questo aveva meno importanza dell'amore infatti sa come morì morì su un piroscafo affondato da un siluro austriaco a largo dell'isola di Pantelleria andava a Tunisi per seppellire il marito morto due giorni prima e devo dire signorina Nadia che da quello che lei mi ha raccontato sulla storia di Marinella Bragaglia si evince il fatto di cui io sono assolutamente convinto e ne parlo sempre che voi donne siate superiori a noi uomini davvero lo dico veramente con grande convinzione e quindi ancora una volta lo abbiamo sottolineato peraltro signor Litterio facendo anche un grande omaggio alla tradizione del grande teatro italiano anzi mi è venuta un'idea a lei? glielo dico io sì allora facciamo a questa maniera guardi se il signor Litterio è d'accordo vorrei fare proprio un grande omaggio al nostro pubblico ecco signorina Nadia per favore porti di là il signor Litterio signor Litterio la prego mi segua signorina perché si approfitta di me? no 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 vada di là perché faccio arrivare prima stasera il signor Enrico Guarneri lo faccio entrare prima questa sera il signor Enrico Guarneri e ce l'ha stato posto esatto salutateli con un applauso eccoli qua va bene immaginiamo che improvvisamente casa mia diventi una sala prove e in questa sala prove c'è una compagnia che in un ambiente anche piuttosto umido ma molto coinvolgente sta provando un pezzo teatrale ma in maniera davvero molto spiritosa e allora mettetevi comodi e assistiamo a Litterio e Chiuri da Potta era qua l'appuntamento no? è qua era ancora non si vede certo dopo la brutta figura che abbiamo fatto ieri questo spettacolo ma dove ci viene di fare ma la nuova dell'impero Bovio che la gente com'è che non ci ha ammazzata a legnato ce ne siamo andati a casa quelli ancora che fischiavano erano e i pomodori che ci hanno lanciato almeno abbiamo mangiato eravamo a Pachino per forza ma quando arriva era qua l'appuntamento ma qua era ah siete arrivati finalmente siete arrivati avete visto che brutta figura che abbiamo fatto ieri sera avete capito no? e la colpa è vostra la colpa di tutto questo è tua perché non sai suggerire è suggeritore tu sei un mago tu sei un mago tu fai i giochi di prestigitazione quando uno non ha bisogno di te guarda dove dovresti essere e ti vede nel momento che ha un vuoto di memoria e si gira pom sparito ma uno te ne vai nel momento di te io non voglio parlare tu non hai capito niente tu non hai capito niente del teatro in generale figuriamoci questa commedia è della tua parte a capire ma ora proviamo ora lo mettiamo in prova fino a morire moriamo mentre proviamo perché quello che è successo ieri non può succedere mai più quale scena proviamo ora? proviamo la scena del fratello quando torna dopo aver ucciso Raffaele che era l'amante della sorella e torna dopo l'omicidio per salutare per sempre la vecchia madre e sua sorella scusi posso fare una domanda? sì allora dobbiamo provare noi questa scena? la proviamo ora la proviamo fino a morire ti ho detto che moriremo ma proviamo ma in questa scena c'è la sorella c'è la sorella il fratello entra e viene in casa quasi per concedarsi dalla vecchia madre scusi una domanda posso fare una domanda? io stavo parlando avanti la vecchia mamma si è messa là chi è che la fa la vecchia mamma? chi è che la fa la vecchia mamma? chi è che l'ha fatta? chi chi? Maria? Maria è brava Maria è nostra? Maria è brava Maria è nostra? si ma lei non se lo ricorda quello che è successo ieri sera dopo lo spettacolo? non mi ricordo che è successo non se lo ricorda Maria ha preso tutte le cose che erano nel camerino tutte le sue cose se le ha messe in una valigia ci ha sbattuto la porta in faccia ha detto io con questa compagnia non ci lavorerò mai più e se n'è andata ieri sera? ieri sera Maria è nostra? Maria è nostra e per chi? era sei mesi che non veniva pagata ma se mi si fa i soldi di cba in ta faccia sei mesi fa incontanti tutta banconota la gente non sa aspettare c'è la crisi la gente non sa aspettare la gente non vuole aspettare ma ora Maria che la fa se Maria non c'è? ora mi manca la mamma qua fa la mamma la vecchia mamma che muore subito poi la mamma la fai tu la fai tu ah io faccio la mamma? tu fai la mamma ah io devo fare la mamma? sì perché io faccio il seggeratore e faccio anche la mamma non lo so voglio uscire un denario tu non vuoi andare nei sindacati ma come la faccio io la mamma? io ti metto il lettino te lo metto qua così attaccato alla scena il cuscino qua i piedi qua invece non ti vedono ti metto uno scialle sopra la testa un farzolettone non ti vedono tu muori subito all'inizio la mamma la mamma magari Dio morisse tu muore la mamma purtroppo il letto te lo metto staccato dalla quinta la quinta è un po' così elevata poi faccio un colpo di buio io sogno un maestro del teatro faccio un colpo di buio qua la luce la mando tutta là il pubblico istentivamente guarda la luce e tu ti metti il letto ti metti su la quinta e te la vuoi fare sui genitori va bene non lo so la faccio io ti devo dire grazie ti devo dire grazie che fai la mamma va bene va bene avanti allora la scena stai parlando tutti sai che sta pensando la scena comincia con il fratello che entra che ha vendicato ha lavato l'onore della famiglia perché tu eri andato a letto con il mio migliore amico il mio migliore amico io non lo sapevo lo uccido torno a casa e la scena finisce quando viene il maresciallo dei carabinieri che mi arresta posso fare una domanda posso fare una domanda io sto creando io creo e tu mi disturbi ma è una domanda pertinente però il maresciallo il personaggio chi è che lo fa quello ha fatto quello ha fatto Nino l'ha fatto sempre Nino Nino no Nino è bravo Nino nostro c'è parere che è embriacone c'è parere ma capuzza ma è bravo ma allora lei non se lo ricorda quello che è successo ieri quello che ha fatto Nino ieri dopo lo spettacolo non se lo sta ricordando non se me lo ricordo non se me lo ricordo Nino ieri è arrivato nel suo camerino dopo che è finito lo spettacolo si è messo tutte le sue cose in una valigia ha sbattuto la porta in faccia a noi e ci ha detto io con questa compagnia non ci lavorerò mai più e se ne è andato e se ne è andato e se ne è andato Nino Nino il nostro Nino nostro è venuto così così con la panza di tante si 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 e perché? non era mai stato pagato mai? mai io ho stanno vedo ora che volevo essere pagato ma la gente ma la gente cambia da così a così in un momento io non lo capisco io non lo capisco vatti a fidare non l'ho mai pagato apposta per non ci fare pigliare un vizio e lui ora è il marescello che lo fa? come fa il marescello? a me stasera in una lera con il cipotto a me come attaccarsi che stasera chi mi arresta che è la manetta mia come mi mette ricorriamo all'espediente della lettera l'espediente? a buon amma di mio padre grande vecchio attore arriverà una lettera arriva una lettera qua ma dove arriva la lettera? arriva una lettera ma da dove arriva questa lettera? da dove arriva? da cielo ah calano da cielo calano una lettera da dove arriva la lettera? ho alzato gli occhi in cielo arriva una lettera di sottapotta io dirò due parole di giustificazione dirò che il marescello dei carabinieri è un mio fraterno amico che siamo cresciuti insieme e chiedo si vergogna ma via sta lì e chi è che la lancia la lettera? e c'è anche qua la lancia la lettera animale se io avevo che lanciava la lettera ci faceva fare un marescello magari che non lo faceva parlare e allora come arriva questa lettera? arriva che la lanci tu io? ah io lancio la lettera? vuoi scelto un denaro? ma perché io faccio la mamma faccio il suggeritore lancio pure la lettera? tu fai la mamma e poi fai il suggeritore questo è alla fine quando fai il suggeritore che non ci sei mai ti assenti dieci secondi pigli la lettera la lanci la devi sapere lanciare dove la devo lanciare? la lettera arrivare qua dove? qua metro più non è che la lancia arriva da sotto come la piglio poi la devi lanciare che la lettera arriva qua io la prendo la leggo e ci sarà scritto caro Pasquale sono il tuo fraterno amico non ti voglio umiliare con questa lettera ti dichiaro in arresto pigli la valigia e bene non è l'era basta va bene e così e vediamo l'arresto va bene avanti allora tu sei mia non ti mangiare non ti distrarre si annoia la sigla chi sta è capo occupato va bene che sta a buttarsi tu per il tuo divettimento e in arresta cucca va bene allora ascolta quello che ti dico tu sei mia sorella tu sei andata a mia insaputa a letto con il mio migliore amico quando io l'ho scoperto naturalmente per lavare l'onore l'ho ucciso e vengo in questa scena ma ritiro per salutare la mia vecchia madre e poi magari a te non solo salutare ma magari umiliarti per farti capire vieni hai visto che cosa hai fatto succedere per non camminare sulla retta via chiuri da potta aspetta che stavo parlando allora a questo punto quando io entro chiuri da potta chiuri da potta no tu sei andata a potta ti churi da potta che cosa no no tu tu chiuri da potta questo è pazzo o tu o tu stai giocando il ruolo nella compagnia tu capocomico ci dici chiuri la potta tu sei andata a potta la sua prima battuta chiuri da potta ma perché già stavi suggerendo io suggeritore faccio no tu sei scemo quale suggeritore ah io sto parlando e tu piglia cominci a suggerire ma devo suggerire un suggeritore d'arte prima di cominciare a suggerire insegnatillo l'arte del teatro batte due volte tre volte le mani così per chiamare l'attenzione della compagnia ci può essere uno che fuma da sotto uno che si piglia il caffè uno che corteggia una donna signori cominciare la prova due volte signori cominciare la prova signori cominciare la prova vedo che tu hai i perifritti tu te ne vai senza maligie picchi maligie non ci ne chiudi fai la rischetta e te ne vai stai attento allora chi sta qua è tua tu ce l'hai in mano questo qua il sipario è chiuso in questa scena che apre il terzo atto questo è il libero bovio malanova malanova di libero bovio capolavoro capolavoro allora il sipario è chiuso la luce in sala è accesa arriva da un certo punto si abbassano le luci della sala si chiama mezza luce mezza luce qualche secondo buio si apre il sipario e comincia a missa perché il teatro è a missa chiaro? va bene che succede? appena si apre il sipario tu sei a mamma si io sono a mamma tu con la coda dell'occhio vedrai quando il sipario arriva quindi arriva e arriva tutto e farai tre colpi di tosse tosse sai da tutti sinistri da tutti che se c'è un medico in sala deve dire chi sta domani non c'è ghionna il trucco è che tutto il fiato che hai nei polmoni l'abbiamo fuori copri il corpo di tosse voglio dire come fai gli altri due colpi tu sei qua stai preparando un semolino un decotto una pastina pa mamma la mamma è moribonda tu sai non è che la salvi questo decotto quando parlo mi capisce però si fa lo stesso aspetta aspetta il decotto si prepara lo stesso quando senti il terzo colpo di tosse tu in silenzio cominci capito a girare questa cosa a questo punto tu avrai l'eccesso l'eccesso della tosse una crisi oh ti voglio dire di diventare viola no 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 calmiamoci viola io sono viola sono io tu sei viola di nome tu mi capisci no chi sta buttando sto tu va bene un po' di spazio va bene e non resta buca va bene allora allora se sta aprendo il sipario tu sei andato si apre il sipario arriva tosse decotto questa nevrosi non esiste questo è un decotto che tu ormai da anni prepari pamam è un decotto che non la salva ma la fai un decotto rassegnato è un decotto sedato con calma o più fai c'è una nevrosi rassegnato un decotto rassegnato sedato la nuova volta il sipario è arrivato dopo il decotto dopo l'eccesso di tosse c'è il suo che mi ritiro chiaramente come c'è il suo spettacolo c'è anche una reazione sua quando tu sentirai l'eccesso di tosse a quel punto ti fermerai da girare alzerai gli occhi in cielo come per dire madonna ma non lo senti come soffre ma chi ci campo a fare per chi non dà ricocchi a questo può arrivare l'amore di una figlia può arrivare a questo desiderarne la morte pur di non vederla soffrire in quel modo va bene avanti arriviamo tosse decotto metteci un po' di sangue un po' di vita metteci un po' di fiato un po' di più rassegnate ma troppo rassegnate è addomisciuto un po' di più eccesso madonna ma non senti come soffre ma che ci campo a fare per chi non dà ricocchi non dà raccogli la mamma che te l'ha detto hai e te ti 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 non senti come soffre ma che ci campo a fare per chi non dà ricocchi va bene va bene eccesso di tosse madonna ma non lo senti come soffre ma che ci campo a fare per chi non dà raccogli va bene va bene va bene va bene brava 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 a questo punto preciso entro io che è successo che si sente male aspetta questo lo si si sente male che cosa è stato mangiato pesante ieri che cosa è stato che si sente male lei ha fatto ah ah ha sciniera da botta una sera e la cerniera arrugginita della porta mi ha fatto spaventare ma che si è creativo perché non è la sensibilità perché tu e il teatro avete litigato per la vita mi sembrava si sentiva male è un segno fortissimo un segno che il pubblico rimane inchiodato nella poltrona che significa che questo è un basso catanese una casa a piano terra nei quartieri vicino al mare una casa umida povera ma onesta ed essere come dire onesti in povertà ma è molto più difficile che esserlo tra gli agi e le ricchezze mi fai scantare mettete là va bene allora sai hai i tasti io entro avrò una maschera di dolore chiuridapoto una maschera di respirazione io appena entro raggiungerò subito il centro del palco chiuridapoto aspetta picchio pubblico come vuole vedere chiuridapoto aspetta il pubblico rimarrà inchiodato chiuridapoto questa mia espressione vale un biglietto chiuridapoto aspetta un dis questa faccia già il pubblico viene questa faccia se ne può chiuridapoto 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 basta che? ti ammazzo io devo suggerire mi stai torturando chiuridapoto chiuridapoto tu mi dici mi sono anche girato ti ho fatto un gesto non l'ho visto non l'hai visto il gesto non ci vede non ci vede fai un suggeritore lasciami lasciami pasteggiare la battuta una volta me la dire vabbè vabbè una volta io lo sento poi non so io quando lo dico lo so vuoi fare tu vuoi fare il mio ruolo ma che c'entra siccome lo sentivo che non la dicevo io l'ho sentito lo faccio io quando lo devo dire basta basta chiuridapoto 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 non lo so io ho fatto i miserabili di Vittorio Ugo lei? io ah sì quando finiva la replica in camerino venne un sinico con il maresciallo dei carabinieri mentre mi struccavo ciasero fai un basso il maresciallo stava neascendendo la pistola e chiedesse fermo ho capito che aveva la fascia il sindaco mi tagliava e mi disse segreggio signore nella mia vita non l'hai visto miserabile ma come a lei mai hai capito? ma complimenti e ora sono qua e ora sono qua e ora sono qua io penso a quello che ho fatto do uno sguardo alla mia vecchia madre che è lì chiuridapoto e mi giro verso mia sorella mi avvicino come per volerti fare capire vedi che cosa hai fatto chiuridapoto sì aspetta tu appena io mi avvicino hai un sussulto di paura chiuridapoto che fai? medea fai che sussulto che sta tragedia un sussulto non c'è bisogno che fai questo che mangia perché non l'hai mai visto così tuo fratello non l'hai mai visto così trasformato di ira di rabbia chiuridapoto sì ma subito chiuridapoto sì ma subito ti pensi di correre delle vecchierette di mia madre chiuridapoto mi avvicino chiuridapoto e dirci alla vecchia chiuridapoto chiuridapoto ma quanto lo dice chiuridapoto lo so io tu so io a te non ti interessa ma se non lo dice mai non lo dico ma poi nel copione c'è scritto che c'è scritto se tu lo guardi vedi la didascalia tra parentesi c'è scritto quando Pasquale cade affranto sulla sedia quando Pasquale cade affranto sulla sedia dirà la bambuta tu mi hai visto affrangere in dalla sedia fammi affrangere prima e poi la dico ma succomi sembrava che non lo sentiva ah no sento io ho io ho undici decimi di udito io undici decimi è la vista quella perché l'apparato non è tutto un orecchio non so con le viste lo parranno allora come hai fatto va bene arrivo qua questa maschera di rabbia di dolore di angoscia tra lì a mia mamma poi vengono e ti sveglia poi vengono e ti appena arrivo tu hai un sussulto di paura ma quando è naturale ma quando è naturale sta film io non lo so poi mi giro vedo vai vorrei abbracciarla stringerla perché adesso me ne sto andando io ti imbicco con queste lazzi io ti levo e ti imbicco te lo giuro che ti imbicco ora te la vado a attaccare la scappa è un attimo che ho avuto un problema vorrei stringerla tra le braccia ma la mia forza di giovane potrebbe potrebbe ucciderla il mio affetto e allora torno indietro guardando mia sorella segnate questa è matematica torno qui cado affranto sulla sedia e finalmente dico la battuta finalmente dico la battuta cado affranto sulla sedia e finalmente dico la battuta chiura il da porta chiura il da porta tu ci vai subito non facciamo il vuoto di scena perché il vuoto di scena è una cosa in tolle e torni è veloce Pasquale tu non mi fai niente Pasquale tu non mi fai niente no io ammazzo no io qualche cosa te la facessi ma che è giusta ah così così ah così la dice la battuta così mi ha suggerito lui deve suggerire le parole l'interpretazione tu sei tu sei terrorizzata da tuo fratello non lo tu sei scandata Pasquale ma tu non mi fai niente no Pasquale tu non mi fai niente ti rubissi i giovani ti rubi ti rubi chiuridaporta chiuridaporta ci vai subito senza vuoto di scena torni Pasquale tu non mi fai niente Pasquale tu non mi fai niente ma ti parli una ballerina io non so chiuridaporta non ce la facciamo ripetere più l'ha detta già no no chiuridaporta lei è andata tornata tu non mi fai niente chiuridaporta l'ha già detto lo deve dire un'altra volta lei chiuridaporta chiuridaporta Pasquale tu non mi fai niente poi lei chiuridaporta io ci dico due di chiuridaporta si chiuridaporta chiuridaporta no ti ho detto chiuridaporta senza ti ho detto chiuridaporta no senza chiuridaporta niente qua è scritto libero bovio è libero bovio chiuridaporta Pasquale tu non mi fai niente chiuridaporta ecco perché tu non leggi a destra le didascalie tra parentesi nella prima battuta chiuridaporta tra parentesi chi c'è scritto ma che devo dire chiuridaporta didascalie tu domani al mattino te ne vai va bene già è sicuro senza buona uscita senza liquidazione ma poi ne parliamo chi sindacate cosa c'è scritto viola non chiude la porta la prima volta che te lo dico tu non la chiudi la porta di fatto è logico perché poi la battuta Pasquale tu non mi fai niente come per dire Pasquale il sottotesto Pasquale io chiuro la porta se tu me lo dici ma non mi fai niente sei terrorizzato hai paura allora chiure la porta tu non ti muovi Pasquale tu non mi fai niente Pasquale tu non mi fai niente e io ci dico con tono rassicurante vedi la didascalia con tono rassicurante chiure la porta chiure la porta e ora rispugna a mia io se c'è memoria stai attento io ti faccio il trabocchetto non lo so a memoria e ora rispugna a mia ma senza mucciarmi niente ma senza muccare te niente ma perché stai mangiando senza mucciarmi niente senza mucciarmi niente e ora rispugna a mia ma senza mucciarmi niente tu senti? no no senza mucciarmi niente non sai suggerire non sai sei tutto impastato senza mucciarmi niente e ora rispugna a mia ma senza mucciarmi niente e ora rispugna a mia ma senza mucciarmi niente ma senza mucciarmi niente senza mucciarmi niente non sai suggerire ma io non so suggerire guarda ti manca la r ti mancano i doppi sei tutto impastato ma se non pare che hai alivio in rauca quando pare come ha battuto ma senza mucciarmi niente io se c'è memoria stai attento e ora rispugna a mia ma senza mucciarmi niente io capiste io capiste ci rapiste no io capiste tu faciste no io capiste ci piaciste io capiste ti piacevo io capiste io capiste che stai facendo che fai qua qua che stai facendo se lei della non mi sente se stiamo avvicinando è bene io non devo il pubblico questo verme obeso che se tu che strisciano dopo accoscenio che si picca tutta la sede come te lo devo fare sentire ma vicino non c'è bisogno un suggeritore d'arte se il primo attore che non è il mio caso non dovesse sentire perché aumentò il volume che se è un macchinario che si è programmato a quel volume io capiste non ti senti io capiste non ti sente io capiste meglio che il pubblico sente una volta il suggeritore che creare il vuoto di scena che è terribile e ora risponde a mia ma senza ammucciare te niente io capiste si sente tu faciste no io capiste tu capiste io capiste tu faceva amore con Raffaele tu faceva amore con Raffaele di questa battuta mia perché l'hai detta tu perché mi ha fatto segnale no hai fatto segnale no ho fatto un segnale generale io non a fare manco colonnello un suggeritore d'arte non muove le mani manco son mazzo il tuo è un mestiere per gente monca senza braccia c'è quando uno deve girare la parte la lingua il minimo che si può chiedere a un attore che può può anche non sapere tutta la parte ma quando sente una battuta deve capire riconoscere che non è sua poi anche se lui ti ha fatto il segnale tu il cervello sembra se ce l'hai perché ce l'hai puoi essere mai tu questa battuta tu faceva amore con Raffaele cioè tu ci dici al tuo frate tu facevi l'amore con Raffaele io faccio amore con Raffaele e che ne so e che ne so tu sai e poi parliamo poi parliamo la battuta è mia certo tu facevi amore con Raffaele sì 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 e da quanto tempo e da quanto tempo da un anno da un anno che scresce che c'è ciao che c'è aspetta dove è nell'occhio la pupilla aspetta 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 la pupilla mi ha indoppato com'è la pupilla imbuttosa mi ha indoppato che c'è disgraziata perché muovete le mani perché le mani si muovono ma suon la gestualità è l'università dell'attore c'è tempo che siamo ancora all'asilo infantile come si sente? bene benissimo e ci vede? con occhio su con un occhio su può fare l'isola dei ciclopoli da sette da sette e allora tu faceva amore con Raffaele? sì sì e da quanto tempo? stai a mia se c'è memoria stai attento e da quanto tempo? da un anno non muovere non muovere rimano non muovere no 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 e da quanto tempo? da un anno da un anno dopamotti do papà cocappottura babè no no dopamotti do papà tac tacutauco du babè no dopamotti do papà dopamotti do papà cofè cocappotto dopamotti dopamotti do papà non puoi fare questo mestiere. E che dove fai? Tu hai un tavolo, un tavolo, un tavolo, sei tutto impastato. Ma il dopamotto di papà è chiaro? Ma come si sente benissimo il dopamotto di papà? Si sente con il cappotto. Mettete qua. Ma se dico il dopamotto di papà? Mettete qua. E da quanto tempo? Da quanto tempo? Da un anno. Da un anno? Ferma con le mani. Con il cappotto di papà? E si sente con il cappotto di papà? Uiri, pare che gli faccio l'ottore capaccioso. Pazzesco, perfetto. E invece la battuta è? Uno dice dopamotto di papà e si sente con il cappotto di papà. Dopamotto di papà. Dopamotto di papà. La R non ce l'hai. Tu sei senza le R e senza le doppie. Dopamor... Vedi la R? Vedi come vibra la lingua? Dopamort di papà? Dopo. Dopo. E' fustitucca? E' fustitucca? No. 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 Chi è? Eh? Come ha battuta? La sua? E' fustitucca? E' fustitucca? No. No. Si? No? Eh? Che cosa? La mia battuta qual è? La sua battuta? E' fustitucca? Basta. Poi c'è lei. No. C'è la mia battuta? E' fustitucca? La sua battuta? La sua battuta stiamo parlando? Sì. La sua battuta è è fustitucca? Basta. Nella lingua italiana non può essere. Se l'ha scritto il libero bovio qua. E qua. Dopamotto di papà. È fustitucca? Basta. E poi c'è lei. No. È fustitucca? Basta. E non c'è altro. No. Non c'è altro. Perché secondo te questi puntini dopo la A e fustitucca? Dopo la K ci sono questi puntini? Che cosa sono questi? Secondo te sono cacatelli di mosca? A mosca passavo e cicacocqui? Cioè i puntini di sospensione, i sospensivi. Perché hai sull'nende? E che devo dire? Fustitucca sospensivi? Tu te non hai assaggiato stesso. Fandiamo la prova e te ne vai. Va bene? Senza reclami. I puntini di sospensione sono quei puntini, lo dice la stessa parola, che danno l'intonazione giusta alla parola che li precede. E fustitucca? Così sarebbe stato se ci fosse stato il punto di chiusura. E fustitucca? Punto. Non c'è da parecchio. I sospensivi fanno diventare la frase e fustitucca? Resta sospesa. Io ti abbraccio. No. Io ti abbraccio costituito accanto ai cannarini. Non ci può che c'è il virus. Capito? E fustitucca? Io quando faccio K tu mi interrompi perché non da K mi finisci usciato e muoio in scena come Molière. Ti vuoi per favore mettere già? Ecco. E fustitucca? No. 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 L'ha detto no. E fustitucca? No. 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 Ma non lo puoi dire così. Ma come tu? No. No. Ma tu è da una vita che ti aspetti che tuo fratello ti faccia questa domanda. Perché tu la coscienza non ce l'hai mai avuta serena, apposto, amoreggiando con Raffaele. Quindi è un urlo il tuo no. È un urlo di liberazione. E fustitucca? No. Hai capito? Io no. Fustitucca no. Vabbè, ho capito, ho capito. Forza. Ora sai chi ne fa dire. E fustitucca? No. È lirica. Senti che è lirica. Qualcosa c'è di bocelli. Qualcosa di lirico c'è l'altro. E fustitucca? No. 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 Non ci fai chiamare. No, ne deve dire un altro. Sono due. Sono due no? Sì, c'è un altro no. È giusto. È libero buo che ha ragione. Sono due. Perché il primo è l'urlo di ribellione. Il secondo è di triste rassegnazione. E il sottotesto è come avete potuto pensarlo. E fustitucca? No. No. Hai capito? Ho capito, ho capito, ho capito. È giusto, è giusto. Vai. E fustitucca? No. No. Si è sgonfiao. Di qualche parte perde aria. Si è sgonfiao. Va bene. E fustitucca? No. 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 Due. Non ti distrarre. Due. No, c'è un altro no. Ci sono tre no. Gli ha scrivito a Bibbia. Sì, qua è libero buo. E fustitucca? No. 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 Tre no ci sono. Perché tu non dà lì a sinistra. Il primo no di chi è? Viola. Il secondo? Pasquale. Utezzo? Viola. Quindi non sono tutti deciso. No. La punteggiatura è il primo no? Il primo punto esclamativo. Esclamazione. Il secondo? Punto interrogativo è suo. Una domanda. E il terzo? No, punto. Punto. Chiusura. È giusto. Perché io ti dico, è fustitucca? No! Io non ci credo. e ci dico, no. Punto. E idda. Chiusura. No! Come per dire, non ne parliamo più. Ci sono tre no. Ci sono tre no. Tre no. Due ce l'ha lei. Un è tre. E lei ne ha uno. Due. Due. Lei ce ne ha due. Un è tre. E lei uno. Due. Due. Sì. I no quando sono. Tre sono i no. Lei ne ha due. L'uno e i tre. Lei ne ha due. Lei ne ha uno e i due. Io tre. Due. Ma questo fanno otto. No. Lei ne ha... Sono tre no? Sì. Tre. Uno, due e i tre. Lei c'ha uno e i tre. E lei c'ha due. Uno solo. Due. Due. Due ce ne ha due e i uno. Tu l'hai capito? E fustitucca? No! 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 Questo è il mio. Questo è il mio. No, questo è il mio. Questo è il mio. Io uno non ho. E tu non vai a casa allora. E vabbè, vabbè, vabbè. Tu hai. No! 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 E fustitucca? No! 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 Questo è il mio. E fustitucca? No! 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 Ecco, dà un copione a mia metà. Che è? Si tagliano due no. Come si tagliano? e io ci addomano, io da come mi chiamo risponde, risponde, io ci credo subito e la tagliamo perché noi stiamo qua mezz'ora, questo si dà e dopo questo divertente momento di spettacolo diamo la linea alla regia e ascoltiamo che cosa vogliono dirci questa sera i nostri sponsor pubblicità a tra poco con Di Nuovo insieme e allora Enrico siamo arrivati oggi alla conclusione in maniera un po' differente ma volentieri abbiamo fatto questo omaggio al mondo del teatro perché come vi diciamo da sempre questa trasmissione televisiva si fa all'interno di un teatro, al teatro a bicicletta e quindi schiaccia l'occhio schiaccia l'occhio ovviamente al teatro chiudiamo chiamando anche i protagonisti di questa puntata cominciando dal nostro Vincenzo Volo, eccolo qua che normalmente Vincenzino oggi è stato un po' il suggeritore di questa strampalata compagnia e poi la prima donna di questa nostra piccola ma divertente compagnia la nostra Nadia De Luca la mia compagna di viaggio la mia collaboratrice personale stasera devo dire particolarmente elegante sempre con gli abiti di Elvira Boutique che veste anche il sottoscritto anche lui poi prima si veste da Litterio poi torna ad essere Enrico Guarneri ma comunque per noi è sempre Enrico Guarneri Litterio grazie, grazie signore e signori salvo la rosa grazie allora signorina Nadia o Nadia se vuoi chiudiamo veramente in maniera del tutto diversa questa puntata poi ci sarà la sigla dedicata sempre al nostro Litterio Scalisi facendo un omaggio alle grandi donne siciliane del teatro visto che oggi il teatro è stato veramente protagonista la nostra regia i nostri autori hanno preparato questo filmato che è appunto un omaggio alle grandi donne del teatro siciliano prego molto bello questo omaggio Enrico perché purtroppo diciamolo molto spesso poi ci dimentichiamo anche di donne e uomini che hanno fatto la storia del teatro o comunque la storia anche della nostra bella regione della nostra bella Sicilia il treno delle vite non si ferma mai quindi travolge un po' tutto e tutti però ogni tanto è giusto ricordarli e ricordarle bene, buonanotte Litterio Scalisi a te il compito di chiudere questa puntata dicendo la frase che noi tutti dovremmo dire un po' più spesso diritto a mia di un nemicovi mi scidica buonanotte grazie a mio a mio a mio a mia mi rilassa la musica dice un proverbio a coda e rupa rupa ci mando mezzo piega non ci guppa e canto a mia un nemico di miscita che fa la gente? la gentilossa sa rusica sogno tranquillo e faccio una bella vita e dove state? straiato sui come una zazzamita e canto a mia dove mi piove mi scivola grazie buonanotte grazie buonanotte grazie 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 grazie